di essere un nuovo giocatore del Levante e niente per rispondere alla tua richiesta che sicuramente che ho fatto tre belle stagioni con il REL però adesso voglio solo parlare del Levante perché il REL sicuramente il passato è un club che porto nel mio cuore veramente perché la gente di questa parte mi ama e adesso che abbiamo fatto molto bene siamo riusciti all'Europa sono stato colpito del progetto del Levante perché il presidente Chico e il direttore sportivo Tito mi hanno valvoluto fortemente e sicuramente che per me è stata una scelta importante perché il Levante è una squadra che sta trovando stabilità nella Liga e sta giocando un buon calcio con un allenatore che è bravissimo secondo me poi sicuramente avevo anche altre offerte importanti in Europa però sono veramente stato colpito del progetto sportivo del Levante Grazie 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 Grazie.